La palpeggiata ha tentato di baciarla e quando lei lo ha respinto lui ha reagito abbassandosi i pantaloni e mostrando le parti intime. Vittima della violenza sessuale una donna bassanese di 47 anni, lui è un trentenne albanese irregolare in Italia. I due si sono conosciuti una sera di marzo in un locale della cintura bassanese, hanno fatto amicizie e hanno deciso di spostarsi assieme in centro storico per un giro tra i bar della Movida. Quando la donna ha portato il giovane a riprendere la bicicletta, lui ha allungato le mani palpeggiandola e provando a baciarla. Lei lo ha spinto fuori dalla macchina e l'albanese, sentendosi respinto, ha reagito spogliandosi. La 47enne ha chiamato il 113 ma l'uomo nel frattempo si era allontanato. Le indagini successive hanno portato all'identificazione e alla denuncia del responsabile degli atti osceni, chiamato ora a rispondere di violenza sessuale.